Quanto siete fomentati da 1 a 10? Vi vedo che state fremendo, che siete agitati, ma prima di iniziare questo video, pontatine per la squadra di Serie A, un buon 2024 a tutti voi, ai vostri cari, che possiate realizzare i vostri propositi, ma vi chiedo tre piaceri prima di iniziare. Allora, il primo, 1000 like, voglio che questo video arrivi a 1000 like, quindi condividetelo con tutti i tifosi di tutte le squadre menzionate che conoscete, iscrivetevi, quando vedete e tornate che non ha 1000 like, continuate a condividere, obiettivo 1000 like, e vi chiedo nei commenti di concentrarvi sui nomi che vi faccio, e di riportare l'hashtag che citerò per ogni puntatina e i cuori con i colori delle vostre squadre che tifate, così facciamo anche una cernita, diamo del color, ma soprattutto con gli hashtag, con le energie, andiamo a canalizzare, andiamo a canalizzare verso questo tipo di operazioni che sanno di futuro e fare calcio. Allora, cominciamo dall'Atalanta, andiamo ovviamente in ordine alfabetico, io vi dico la verità, per l'Atalanta avrei preso Dragusin, per fare un salto di qualità anche arrogante, che ci sarebbe stato, per ora sembra arrivi Hien, e quindi mi concentro su un'altra zona di campo dell'Atalanta che non mi convince molto, ovvero il pacchetto esterni, in particolare la catena destra, a sinistra c'hai un Ruggeri in forma, bravo anche nei cross, dall'altra parte puoi replicare con un interprete universale, che ricalchi anche quello che si vedeva gli scorsi anni, quindi vado a dire Joshua Vagnoman dallo Stockard, che è un giocatore di ottima rapidità, capace di saltare l'uomo nell'uno contro uno, di fisicità, con anche piedi buoni, impiegabile pure alla Pavard come braccetto, se ce ne dovesse essere il bisogno, magari se vuoi spostare in qualche partita per emergenza Hien al centro, Joshua Vagnoman, che ti può essere anche utile per andare a ricercare quelle azioni da esterno ad esterno, che hanno contraddistinto anche per certi versi le migliori fasi dell'Atalanta, quindi per l'Atalanta Joshua Vagnoman dallo Stockard, compralo pure, tanto è un prospetto di grandissimo valore, e hashtag Vagnomaria, hashtag Vagnomaria per l'Atalanta, e l'Atalanta l'abbiamo fatta. Andiamo sul Bologna, sul Bologna si sente parlare di questo Gessan dal Nizza, che mi sta bene, qui si vedono le inerzie sartoriane, colpo per certi versi di scouting, ma anche drip dal Nizza, quindi inizia anche a respirare una certa aria europea, un rilancio in chiave europea senza snaturarsi, senza figurinismi, in un ruolo forse l'unico dove il Bologna può aver bisogno, cioè una prima punta che possa aiutare Zirkze o sostituirlo quando c'è bisogno, approvo Gessand, quindi hashtag Sartorismo europeo Gessand dal Nizza. Per il Bologna. Andiamo con il Cagliari, col Cagliari ce l'avevamo lasciati quest'estate proprio con un senso di sofferenza, attraverso cui la salvezza di questa squadra doveva, deve passare, i sacrifici della classe operaia, capito, quasi di berlingueriana, pasta e foggia, è giusto, è giusto, sofferenza giusta, sofferenza che gasa, ci avrai un Lappadula da far tornare a regime, sacrifici, gangli retorici ranieriani, perché anche Ranieri con i gangli retorici ci sa fare, quindi per questo Cagliari di sofferenza da sacrifici della classe operaia dico una vecchia conoscenza del campionato italiano che può aiutare in difesa, reparto un po' ballerino, vi dico Eric Ferigra del Pacos de Ferreira e hashtag Casu Marzu, ok? Sofferenza, sacrifici, classe operaia, Eric Ferigra, vecchia conoscenza del Torino, del Pacos de Ferreira. Andiamo all'Empoli, allora anche qui come in tante squadre, in questa sessione pontatinale, innesto che io privilegerei di più in difesa che in attacco, perché comunque c'hai caputo, puoi cercare di far andare di corpo destro, mentre al contrario i centrali quest'anno dell'Empoli li vedo un po' annebbiati. È comunque una squadra che se vuole lottare per la salvezza, un occhio alla difesa glielo deve dare, e non è che vedo questa gran situazione, ripeto. E qui guarderei a quel che succede in un'altra compagine, competitor, ovvero nella girandola di giocatori che può accadere a Salerno in questi giorni, andrei a prendere Dani Liuk, ok? Anche a caso, a caso, nel caos di questa salernitana che magari dovrà fare diverse operazioni, vatti a prendere Dani Liuk, magari un prestito con diritto di riscatto, chissà mai che magari Dani Liuk lì non si trova bene e può saltare fuori a gennaio questa opzione Dani Liuk, quindi per l'Empoli Dani Liuk dalla salernitana, lo prendi al volo, quindi hashtag nel caos per sbaglio, nel caos per sbaglio Dani Liuk all'Empoli. Fiorentina, ne ho già parlato tantissime volte, nel ruolo in quale interverrei, non che da altre parti non ci possa essere di bisogno, con la Coppa d'Africa, gli esterni, sottile da valutare a livello anche di quello che gli è successo nell'ultima gara, il discorso Nico, oppure il discorso centravanti, tutte le notte vicende che ci siamo ripetuti un milione di volte, però io andrei a comprare, ripeto, in un reparto dove a comprare non fai mai un errore, anche aspettando Castrovilli, perché comunque hai Maximo Lopez e Mandragora che sono tutti da valutare, che non rendono, Lopez oltretutto non è neanche tuo, se manca Arturo il centrocampo fa fatica, un po' di fisicità ce n'è di bisogno, quindi dico e ripeto, Mauriz Kjærgaard dal Salisburgo, mediano liquido, che va benissimo sia in un 4-3-3 che in un 4-2-3-1, giocatore di fisicità che ti può apportare capacità di interdizione, ma anche capacità di lanciarsi in avanti verso la porta, quindi Mauriz Kjærgaard, hashtag per nobilitare, Mauriz Kjærgaard dal Salisburgo per la Fiorentina. Frosinone, ho letto di Zortea, di Nadir da Zortea, mi va benissimo, giocatore che mi piace molto, sembra che questo prestito vada insomma a buon fine, assieme a quello di Huizen dalla Juventus, gioventù al potere, proseguire il lavoro fatto quest'estate, rafforzandolo, quindi mi va benissimo Zortea, hashtag summer too hot per riprendere il lavoro estivo, va benissimo Nadir Zortea per il Frosinone. Genoa, questa è potente, questa è molto potente, questa è veramente devastante. Io guardo il Genoa e cosa vedo? Vedo che serve a mio avviso un po' un giocatore a centrocampo che abbini quantità, qualità ed esperienza, perché vedo Strotman e ha la sua età, vedo Badel e lasciamo perdere, Frendrup un buon giocatore per carità, ma serve secondo me una lanterna, serve una lanterna, visto che parliamo di Genova, a centrocampo, che dia quantità, che dia qualità, che dia esperienza, insomma anche questa nuova società qui che è arrivata, un bel regalino lo può anche concedere, e allora io dico in prestito, perché ovviamente deve essere una cosa fatta in prestito, Johan Jordan in prestito del Siviglia, che ve lo ricorderete tutti per la finale di Europa League contro la Roma, Johan Jordan che adesso dovrebbe ritornare in gruppo, prendilo tu in prestito del Siviglia, hashtag prelevo al Siviglia, hashtag prelevo al Siviglia, Johan Jordan a centrocampo, quantità, qualità, visione sulla porta, capacità di dare tono, di essere una lanterna per questo Genoa. Inter, anche questo ripetuto tante volte, e non posso che dire, adesso che è arrivato anche Bucanan, non posso che dire un Ponte Ross che unisca efficacia, la capacità di interpretare bene il ruolo, fomento, futuribilità, funzionalità, e sebbene anche Taremi sarebbe sicuramente interessante, ma io resto al porto e ridico Danny Namaso, quindi hashtag Ponte Ross per l'Inter, Danny Namaso, Danny Namaso del porto. Juventus, allora, è giusto cercare un vertice basso di centrocampo, anche per tornare a mettere Locatelli, dove in teoria dovrebbe nascere, magari per formare maggiormente, cioè mezz'ala di inserimento, aspettando fagioli, e quindi vertice basso sicuramente, concordo, ma per quel che riguarda il nome, non dico Calvin Phillips, dico Maxen Cacheré, Maxen Cacheré del Lione, lo chef sperandio del fare regia, immaginandomi un centrocampo con Cacheré vertice basso, un anno, l'anno che verrà Cacheré vertice basso, con fagioli e Rabiot da rinnovare a mezziali, un centrocampo Cacheré, fagioli e Rabiot in un 3-4-2-1 anche volendo di Tuchel, e con lo chef sperandio di Italia squisita come vice, e inno prodotto da Playboy Carti, ripeto, un centrocampo Cacheré, Rabiot, fagioli, nel 3-4-2-1 di Tuchel, con lo chef sperandio come vice, ti manca solo l'inno prodotto da Playboy Carti, quindi hashtag transito al Tuchelismo e dentro Maxen Cacheré dal Lione. Lazio, allora, qui non possiamo che affunciare al pacco pontatinale estivo, che vado giustamente ripetendovi da quest'estate, ed è uscita pure la notizia dell'interessamento del giocatore da parte della Lazio, poi va detto che in questo momento il Napoli sembra in vantaggio, in netto vantaggio, sto parlando ovviamente di Samarzic, che all'Udinese non sta brillando, l'Inter non sembra più interessata, e quindi io dico, nel possibile, supera la concorrenza del Napoli, fai questa offerta e portatelo a casa tu, perché può essere un giocatore che nel numero di assist e gol, se valorizzato, come sono convinto avrebbe da Sarri, potrebbe, quantomeno dal punto di vista del gol e degli assist, mentre dal punto di vista dell'interdizione, della fisicità, dovrebbe farsene carico qualcun altro, ma dal punto di vista delle qualità offensive, potrebbe sicuramente prendere in carico, anzi ampliare, il ratio di gol e assist che Miliko Vissavic ti garantiva, quindi io dico, hashtag un Samarzic sarriano, perché è quello che vorrei vedere, se dovesse essere tardi, e il Napoli dovesse finalizzare l'acquisto, in queste ore, dico comunque, un altro pontatinato estivo, un terzino sinistro, cioè Miguel Gutierrez del Girona, ma in ordine di priorità, se possibile, inserisciti nell'affare Samarzic, e fai tu l'offerta decisiva. Lecce, parlando di Lecce, ora i Salentini mi detesteranno, ma lo faccio citando i tipi bari vecchia, e in particolare il video sui canestrelli, perché li canestrelli, ecco li canestrelli, perché io prenderei proprio canestrelli dal Pisa, per rafforzare anche qui il pacchetto centrali, un po' scarno, sebbene funzionate, ma dopo l'accessione di un TT, canestrelli, oltretutto che a me piace molto, è un giocatore che può pure giocare, volendo a centrocampo, dando una mano anche lì, ai vari ramadani, Kaba e via discorrendo, reparto anche quello che ha vissuto dalla cessione di Hulmand, un canestrelli quasi nuovo, a Lembo-Gossean, un canestrelli alla Rodri, che ripeto, può impiegare come centrale di difesa, ma volendo anche come giocatore che gioca a centrocampo, magari sempre in un tuo 4-3-3, volendo come vertice basso, in un 4-2-3-1, proprio alla Rodri, quindi un canestrelli, lì canestrelli a Lecce, giusto così, canestrelli del Pisa. Milan, qui faccio una scelta vergognosamente democristiana, ve lo dico da solo, ma questo democristianesimo è giustificato, perché prendere l'attaccante a gennaio, che è un ruolo importante, catartico, senza sapere chi sarà il tuo allenatore, magari anche a maggio-giugno, è un rischio, e quindi prendere oggi il Ghirassi, o il tizio e Caio sempre in un di turno, che magari poi ha caratteristiche che non vanno bene per Pioli, ma vanno bene per quello dopo, o al contrario, vanno bene per Pioli, ma poi Pioli magari non resta, e chi lo sa che cosa succede, è un ruolo che è difficile fare a gennaio, quello del centro avanti, e oltretutto Ghirassi, oltre neanche a molto, appassionarmi, sembra anche difficile, per il discorso del decreto crescita, quindi escluso il discorso attaccante, che a gennaio escluderei, potresti prendere Gertruida, sfruttando l'occasione a gennaio, che è un'altra mia pontatina estiva per il Milan, ma va detto anche che se si parla di gennaio, non è una priorità rispetto ad altri ruoli, perché è Calabria, mettere in panchina a Calabria, campionato in corso, per prendere Gertruida, diciamo, non è una priorità, la priorità a oggi, stante anche gli infortuni, è il pacchetto centrale, dove stante la situazione, quando compri non fai mai male, quindi vi vado a indicare un nome di un centrale, che è Jesper Dalland del Club Bruges, anzi del Circle Bruges, ve lo do io l'algoritmo, ve lo do io con Jesper Dalland del Circle Bruges, pontatina scautistica, un nuovo Simon Kier, giocatore anche che lo ricorda esteticamente, ma non solo, ma giovane, sprintante, quindi hashtag neochierismo nel caos, con i cuori rossoneri, hashtag neochierismo nel caos, prendo un'altra, questa fu un'altra mia pontatina estiva, Jesper Dalland del Circle Bruges, per il pacchetto centrale di difesa del Miro. Monza, anche questa è preziosa, pontatina molto precious, questa è. Al Monza c'è una situazione un po' magari ferma dopo l'addio di Berlusconi, quello che io rintraccio nel Monza è l'esigenza di un po' di qualità tra centrocampo e tre quarti, vi dico la verità, dopo il ritorno all'Inter di Sensi, non mi starei a concentrare sul discorso tre quarti per l'infortunio di Caprari e per l'addio del Papu, no, lì comunque ai Vignato, ai Colpani, ai giocatori che possono giocare lì, volendo anche Dani Mota, Carboni, quindi non andrei a intervenire lì. Io vedo soprattutto un qualcuno che nel 3-4-2-1 sappia aggiungere sicuramente un po' di qualità nei due mediani, diciamo, volendo anche, potendo essere adattabile a giocare dietro la punta, proprio come faceva Sensi, diciamo, quando giocava al Monza e quindi io dico Cortinovis, dall'Atalanta, ora in Under-23, che può rappresentare anche un post Colpani. Quando cederai Colpani puoi avere già in casa un Cortinovis che lo ricorda molto e che a differenza di Colpani che ha un profilo prettamente offensivo, Cortinovis avrebbe anche delle capacità per giocare un po' più indietro se ti serve e quindi dico Cortinovis, si va dall'Atalanta in queste operazioni valligiane tra due squadre lombarde, quindi hashtag scambi valligiani Cortinovis comprato dall'Atalanta Under-23 al Monza cosicché possa essere un innesto double fast valido sia per dare qualità alla dinamidiana sia anche volendo per giocare dietro la punta. Napoli, anche qui pesco non tanto dalle puntatine che diedi in estate perché io in quel ruolo lì dissi Danso che poi fu effettivamente trattato ma poi ci furono problemi le note vicende quello che vi sto per dire è sempre un centrale di difesa perché lì inutile dirlo con la cessione di Kim il Napoli ha perso tanto quindi vado sicuramente a pontatinare in prime su un centrale di difesa che è il secondo nome che avrei fatto qualora non fosse arrivato Doecki d'estate o non fosse possibile Doecki quindi vado a pescare quello che a mio avviso è uno dei centrali più interessanti in Europa ovvero Danilio Doecki dell'Unione Berlino lideristica potenza neobremerismo è fuori per un infortunio ma è in ordine di rientro a pochi giorni prendilo adesso che sta rientrando innestalo nel Napoli e può essere un innesto per il presente per quello che riguarda questa stagione qui ma soprattutto anche per il futuro oggi che non lo vai neanche a strappagare hashtag pontatina asporto pontatina asporto Danilio Doecki prendilo quasi come uno street food che ti lanciano al volo Danilio Doecki dell'Unione Berlino per il Napoli Roma io vi dico la verità dall'ipotesi Bonucci ero ci poteva stare però va detto che oltre a essere saltato qualche settimana fa era pure uscito un nome che per quel che riguarda il fare calcio Roma mi fomentava ancora di più anch'esso pontatinato nelle sessioni precedenti per i giallorossi ovvero Pablo Marie del Monza che oltre a vederlo benissimo al centro della difesa è anche più futuribile rispetto a Bonucci e ti può essere utile anche in futuro anche se dovrai cambiare magari allenatore a fronte di un costo non proibitivo perché se si parla di un indennizzo che il Monza vuole da 5-6 milioni ma non mi pare una cifra piuttosto vendo uno e piglio lui quindi hashtag notti europee perché Marie me lo vedo benissimo anche nelle notti di Coppa Europea è un giocatore di esperienza internazionale di stazza di estetica quindi hashtag notti europee Pablo Marie alla Roma di Murigno Salernitana allora in primis per la Salernitana io prenderei un giocatore che possa dare un po' di peso in mediana ma anche essere una soluzione per gli ultimi metri con capacità di inserimento quindi dico Zurkowski dallo Spezia in prestito con diritto di riscatto così lo Spezia valorizza anche un suo giocatore che non sta trovando molto spazio Zurkowski all'Empoli fece bene in un ambiente come Salerno per lo schema anche per il modo di giocare che ha la Salernitana ce lo vedo bene quindi hashtag riscatto al rilancio riscatto al rilancio Zurkowski dallo Spezia in prestito con diritto di riscatto Sassuolo allora questa è una storia particolare perché stavo cercando ovviamente per il ruolo che intendevo rafforzare il Sassuolo ovvero anche qui un centrale di difesa e avevo la mia lista di pontatine e vi dico la verità ero indeciso tra Pappetti del Brescia e questo qui che adesso vi dirò ma questo qui che adesso vi dirò poi mi è capitata una notizia che il Sassuolo c'era effettivamente interessato e quindi seguiamo questa vena aurea tra l'altro giocatore che interesserebbe pure il Milan e i più attenti avranno capito di chi sto parlando cioè di Lilian Brassier del Brest che oltretutto assomiglia pure al Biondometti che saluto quindi hashtag Brasserie Biondometti Lilian Brassier al Sassuolo se il Milan è interessato magari lo può anche fare un'operazione in vista futura al Milan che magari per motivi suoi lo compra e lo presta al Sassuolo ma in ogni caso per il Sassuolo Lilian Brassier del Brest che secondo me è quel che serve Torino allora leggo Di Doig ma anche qui io interverei con un centrale di difesa o comunque con un difensore visti i numerosi infortuni in primis quello di Schurz che c'è stato andrei con un centrale di piede destro e vi dico cittadini dell'Atalanta di cui si parla anche in chiave di un prestito in serie B io invece dico no il Toro prenda cittadini dell'Atalanta che è in prestito al Monza ma non ha quasi mai giocato un bel prestito di cittadini ovviamente si può fare un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto che è una soluzione perfetta per a. tamponare le esigenze difensive del Toro b. valorizzare il giocatore con Juric che è un grande accrescitore di difensori nonché un allievo di Gasperini anche in ottica Atalanta c. non far comunque perdere all'Atalanta il controllo sul cartellino del giocatore molto interessante ma non penalizzando il Toro che nel caso può avere comunque i soldi del contro riscatto e se l'Atalanta ritiene di lasciarlo può anche rimanere al Torino quindi per il Toro dico cittadini in prestito con diritto di riscatto può veramente essere una sorpresa con Juric per la seconda parte di stagione quindi hashtag interscambio cittadini al Torino Udinese allora per l'Udinese io rimando a qualche video fa quando parlai della nuova Udinese battente 4-3-3 o 4-3-2-1 che mi piacerebbe vedere già da oggi ma magari anche in futuro con un Paolo Zanetti e vi parlai di Baschirotto quale transito storico ok dalla difesa A3 a quella A4 ed essendo lui un ex terzino va benissimo anche per la difesa A3 come braccetto di destra proprio a sostituire quel Becao che non sei riuscito a sostituire per leadership peso e carisma quindi oggi più che mai il Baschirotto costi quel che costi con quello che hai venduto le difficoltà della squadra dacci un regalo ok quindi hashtag transito storico Baschirotto all'Udinese quale transito da una difesa A3 nella quale comunque può fare ottimamente il braccetto di destra ad una difesa magari un domani A4 ok ma dico Federico Baschirotto all'Udinese Verona allora qui sul Verona ci sarebbe di che di che sfogarsi perché vedo una situazione complessa oltretutto c'hai una squadra che ad oggi sarebbe salva per il pelo ok e se sento a gennaio che si cedono Ien e si ascoltano le offerte per Doig e per Ngonge ma cioè già sei in difficoltà perché il campionato è difficile Baroni ci ha messo del suo e tutto ma anch'io se sono Baroni che pure non è che anzi spesso mi fa anche cristonare quando vedo il Verona però cioè vendi magari e ne ti ritrovi a vendere pure in Gonge e Doig allora che cazzo fai quindi situazione preoccupante che ti fa già cadere le palle sei lì che lotti già con le unghie coi denti rischi di veder vendere meglio io in questo contesto qua di situazione complessa ripropongo Girelli dalla Sampdoria che è un tuttofare di collagene perché può giocare a centrocampo può giocare in una trequarte in un trequattro due uno volendo può essere anche adattabile a centrale di difesa quindi hashtag transizione tuttofare collagene per Girelli che prendi un giocatore ma c'hai due tre ruoli che questo può fare giocatore anche interessante di personalità quindi per il Verona dico Girelli dalla Sampdoria magari un prestito con diritto di riscatto o decidi tu ok quindi ricapitoliamo Atalanta Joshua Vagnoman dalla Stoccarda hashtag Vagnomaria Bologna Gessand hashtag Sartorismo europeo Cagliari Ferigra hashtag Casu Marzu Empoli Daniliuk hashtag nel caos per sbaglio Fiorentina Mauriz Chiargaard hashtag per nobilitare Frosinone Zortea hashtag summer too hot Genoa Johan Jordan hashtag prelievo il Siviglia Inter Denin Amaso hashtag Ponteros Juventus Maxen Cacere hashtag transito al Tuchelismo Lazio Samarzic hashtag un Samarzic Sarriano ok o in alternativa Miguel Gutierrez Lecce Canestrelli hashtag Li Canestrelli un Canestrelli alla Rodri Milan Jesper Dalland del Circle Bruges hashtag neocerismo nel caos Monza Cortinovis dall'Atalanta hashtag scambi valligiani Napoli Danilio Danilo Doecki hashtag Pontatina Sporto Roma Pablo Marie hashtag Notte Europee Salernitana Zurkowski hashtag riscatto al rilancio Sassuolo Lilien Brassier hashtag Brasserie Biondometti Torino Cittadini dall'Atalanta hashtag Interscambio Udinese Baschirotto da Lecce hashtag transito storico Verona Girelli dalla Samp hashtag transizione tutto fare collagene ok queste le mie puntatine condividete con tutti ditemi cosa ne pensate di questi nomi devastate i like guardate i video fatti condividete con tutti e un caro saluto